Siamo nella curva della Lazio, derby Roma-Lazio, finale Coppa Italia, curva Nord, ingresso Tribuna Tevere e curva Nord e distinti. Stato olimpico, manca mezz'ora all'inizio della partita, la partita che si annuncia intensa, molto sentita, sentite il tifo? Manca ormai pochi minuti all'inizio del match, tanto atteso. Siamo con la voce ragazzi, con la voce, voce, voce! Siamo con la voce ragazzi, con la voce, con la voce speciale! Sertifo Laziale, curva Nord, domenica 26 maggio 2013. Mancano 15 minuti, 30 circa, all'inizio della partita.